Sto lasciando la GoPro con la cosa tipo aperta Se piove la prendo in culo Quindi fammelo ricordare se piove Ecco qua siamo all'Eco Campus All'incirca a mille metri Mi ha appena scurato l'orologio Significa che sono le 4 E ancora non abbiamo cominciato Ancora non abbiamo iniziato Ci vuol dire Alessandro Sono le 4 precise Qua c'è il briefing là sopra Noi siamo in Arcos Dobbiamo proteggere i cartelli della droga Ci sono gli americani che ci aspettano lì in fondo O ci aspettano salgono Ancora non si sa Guarda che bella vista Intanto mi bevo la birra Non si sa qua non si vede niente Alla si vede molto meglio la pista Guarda che sto cominciando a salire Sandro ti lascio la birra Questa te la coli tu ora Ti riesci a mettermi in questa tasta Ma ti viene che è più difficile Dove te la vuoi messa? Qua Ti sto lasciando la birra qua Dove la dobbiamo mettere? La interagghi Ricordo che è una 20 ore Una milsim 20 ore Fa freddino Siamo alti È novembre quindi è normale Ieri qua c'era la neve Fortunatamente oggi abbiamo trovato Una giornata discreta Per così dire Che può piovere da un momento all'altro C'è una bella vista qua 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 Grazie.